Ciao a tutti, oggi prepareremo la glassa al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 8 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, acqua, zucchero semolato e burro. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale il cioccolato e lo andiamo a tritare per 20 secondi a velocità 8. Rieniamo sul fondo. Andiamo ad aggiungere lo zucchero semolato, l'acqua e il burro. E andiamo a scaldare il tutto per 5 minuti. 70 gradi. Velocità 3. La nostra glassa è pronta. Glassa al cioccolato, ideale per decorare torte e muffin. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.